Il teatro romano di Benevento, voluto nel 126 dall'imperatore Adriano, è tornato a nuova vita grazie a un sistema di illuminazione con differenze cromatiche, bianco e giallo oro, e apparecchi ad alto livello di sostenibilità ambientale. Il nuovo sistema, realizzato da CSPA grazie a un accordo con il MIBACT e GESESA, società partecipata di Acea che gestisce il servizio idrico integrato di Benevento e altri 21 comuni del Sannio, è stato mostrato in occasione del concerto di Nicola Piovani, che ha chiuso la seconda edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Si è scelto di illuminare sia gli esterni che gli interni con 120 apparecchi a LED di due diverse sfumature cromatiche, per mettere in risalto le differenze di materiali di cui è composta la struttura, una delle migliori conservate tra tutti i teatri romani d'Italia e, secondo molti esperti, quella dotata della migliore acustica, l'amministratore delegato di GESESA, Piero Ferrari. Stiamo cercando di costruire un territorio che possa veramente valorizzarsi, che possa consegnare alle generazioni future sia un ambiente più pulito attraverso queste attività, perché l'illuminazione a LED sicuramente riduce l'impatto ambientale, ma che possa dare anche un futuro in termini occupazionali, perché è un'azienda che ha la pretesa di crescere, un'azienda che ha voglia di svilupparsi sul territorio ed essere un punto di riferimento. Questo lo stiamo facendo con il grande aiuto di Acea e sicuramente GESESA ne è il motore territoriale.